Porco Dio! Headshot Beach qui è... ...campione olimpico di marcia. Quando non mi alleno, vivo qui in Alto Adige, in mezzo alle montagne. E tra i pascoli mi prendo cura del mio latte. E quando al pomeriggio ho bisogno di fare una pausa, con mio fratello... E inizio col darvi una brutta notizia, ovvero che la mia Playstation è morta. Quindi me ne comprerò un'altra, credo, tanto costa poco adesso. E con i soldi che ho fatto spacciando la droga... E... ho... Devo dire che... Cioè, non mi costa niente prendermelo. Poi ho... Soprattutto molti contatti, tipo... E lui sicuramente potrà far qualcosa per me. Ma intanto in questa partita scelgo... Il Santos! Do Neymar! Ma... Guardando bene quanto sono brutti i giocatori... Madonna santa... Eh... Sì, mi sembra di averli già visti già in un altro video, se non sbaglio. Ma... Andiamo subito in campo e vediamo che già il Santos attacca con Neymar... Neymar... Neymar! Che gran gol! GIGALO! GIGALO! E... Mi sa che hai sbagliato Panicoz. Ah, regà! Scusatemi... Scusatemi... Sbello canale... Ritorno subito... 360RX... Intanto qua, Omi... Un coatto... Te fa go... Io me lo farei fare, stupo qua, eh... È chiaro? E... Intanto siamo al 45esimo minuto... E... Cerco di attaccare io, ma... Un attimo... Ah, la connessione, cazzo... E... Io non so cosa dire, vabbè... Oh, Panicoz! Dimmi tutto, frate! E... Io non me l'aspettavo questo... Quindi... Se ti vuoi fare un po' di pubblicità... Puoi parlare, eh! Bella rica! E... Niente, sono qua da Omi... Me ne sono andato da 360... Perché... Volevo fare una partita... Con lui... Volevo fare un po' di pubblicità... E volevo anche presentarvi un mio nuovo amico... E... Puoi parlare, grandissimo! Salve ragazzi! Sono sempre io! LegolaStep90! E... Qua oggi sono a cacciare i draghi! Co... Ma... Non ci sono draghi in questa partita! Allora mi sa che me ne vado, Panicoz! Vado a cacciare i draghi! LegoStep90! Ah sì! Mo' devi stare qua! Fermo è buono! Perché... Se siamo fatti un culo così per fare il video... Mo' lo dobbiamo sponsorizzare! E quindi, Omi... Io te chiedo se... Ci puoi sponsorizzare i primi minuti del video... Che abbiamo fatto io e Lego! Dagli Omi! Oh! Oh! Hai giocato il mio tralalà! Uh! Il mio din din don! E dai e dai e lego! A cacciare i draghi! La! 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 Oh! La! 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 ne so fatto Chelsea da ventitré io, io sono Panikos e oh mi ha detto è un gran gay io sono Panikos e non so più che cazzo di Hey belli son Lego e vado a caccia di draghi perché ho bisogno del mio amico Stefan Pepito Stefan Pepito Oh, you touch my tralala Bella raga sono Omi e spero che sia il grande Davide ovvero Panikos e Lego non si siano arrabbiati per questo Comunque il commento è finito a me si è fusa la Playstation quindi questo era il penultimo episodio quindi ho deciso di risparmiare un po' le clip e io vi chiedo per favore se vi è piaciuto di mettere un sacco di mi piace ve lo chiedo per favore perché così almeno se capisco che vi piace questo stile di commento io commento anche così su Call of Duty e cerco di inventarmi qualcosa comunque aspettatevi un episodio ancora più pazzesco di FIFA perché sarà l'ultimo prima di Natale e io vi lascio vi prego ragazzi mettete mi piace vi scongiuro e scusa ancora a tutti quelli che ho preso in giro Bella! e io vi lascio la